E' bello a tutti ragazzi, eccoci qui in questo nuovo video vi sto presentando il famosissimo Capitan Planet Pollution, in italiano flagello, uno dei personaggi più rari di questa serie, davvero difficilissimo da trovare, soprattutto in blister, molto molto raro, eccolo qui adesso ve lo farò vedere da vicino, notate com'è bello? Dei colori molto particolari rispetto al personaggio originale, sarebbe uno dei cattivi della serie di Capitan Planet, guardate il blister com'è bello? Viene riempito di una melma colorata, dietro la schiena e poi c'è lo sludge fuoriesce dal corpo di Capitan Planet, di Capitan Flagello. Qui abbiamo il contenitore con la sua melma, il secchiello, guardate, adesso vi girerò il blister per far vedere anche gli altri personaggi che ci sono dietro e come viene in pratica azionato, guardate si riempie con il secchiello, si mette il tappino, si mette un po' d'acqua e si preme e esce tutto lo sludge fuori. Molto molto bello, guardate tutta la serie, i cattivi, i bravi, i mezzi. prodotto del 1991 dalla Jig. Guardate, adesso vi faccio vedere anche il personaggio da dietro, a me, a questo qui, l'hose mancano gli accessori in pratica, manca il tappino e manca il secchiello. questo che vedete qui nel blister, ecco il secchiello. E il tappino sta dietro la schiena del personaggio. Spero che questo video vi sia piaciuto, questa è stata la presentazione di Capitan Planet, Pollution in inglese, in americano e Flagello in italiano. Grazie ragazzi, vi ringrazio, mettete like al video, buona serata, buongiorno.